Ehi, Susanna Maria, sono ansiosa di sapere come il conte accolse la proposta, non ho affredito il bracetto di parlo, e a uno sposo si vitace e geloso, non fai manciuto, cambiando i miei vestiti con quelli di secondo, e sui cammini al favore della morte. A giro a qual ho visto fatale, io sono ridotto da un'unzorte crude, e il tuo padre, io non mi sto inaudito in fedeltà, d'incenosi io, di stegni prima volta. A giro a qual ho visto fatale, io non mi sto inaudito, e il tuo padre, io non mi sto inaudito, 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 e il tuo padre, io non mi sto inaudito, io non mi sto inaudito, io non mi sto inaudito, grazie a tutti Non è il mondo, non è il mondo, Grazie. 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 Grazie.